Comunque anche tu, carina, eh? Magari, non lo so, una robettina tipo io te e Giada insieme, mi comprate un po' di fumo e poi ci divertiamo, no? Due bombe, due bombe, hai capito? Nel doppio senso. Ma comunque roba buona, eh, io, cioè, non il fumaccio underground, robe schifose, cioè, insomma, ci divertiamo, eh? Cioè, ma lei ci sente? No, per fortuna no. Ah, boh, vabbè, ci sta, ci sta.